Settima giornata Super Cup, vede affrontarsi Castellani contro Manageria United Saluto al pubblico Capitani fare un tocco per palle e campo Capitani fare un tocco per palle e campo Come lui ha la fascia di capitano, è più degno di scegliere Campo! Palla russa! In bocca al luco, ciao ragazzi! A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.